Benvenuti al video. Funzionalità linea ed eleganza, il mobile porta-tv Chloe in legno offre ben due cassetti e un vano per ospitare lettori DVD, decoder, I-Fi, console, home teatre ecc. Elemento classico ma sempre attuale, si abbina ottimamente ad ogni contesto d'arredo esistente, valorizzandolo con le diverse colorazioni. Realizzato tutto in pino massello compresi i cassetti. Possiamo anche personalizzare la finitura in base alle tue esigenze, con una tinta a campione. Richiedi il prezzo nel modulo richiesta preventivi. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.